Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi siamo qui per fare un super 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 rilassante, che è 3D with me, andiamo a provare nuovi prodotti che ho acquistato, un ladino impegnativo, non sarà un tutorial, sarà un video semplicemente in cui mi truccherò con calma e in cui mi rilasserò. E spero che mi rilasserete. Ma prima di cominciare il video devo chiedere una cosa importante, un favore molto importante ad alcuni di voi. Vorrei raccogliere delle testimonianze sull'SMR, su come l'SMR possa veramente cambiare, stravolgere la vita di qualcuno combattendo ansia, insonnia in modo radicale. Quindi magari smettendo anche di prendere farmaci o finalmente riuscendo a dormire, quindi se riusci a dormire la vita cambia tanto. Qui sotto c'è una mail fatta apposta per raccogliere queste testimonianze. Chiedo alle persone che hanno una storia da raccontarmi, una testimonianza da raccontarmi riguardo alla loro esperienza sull'SMR, di scrivere a questa mail insomma il loro testimonianza, come sono venuta a contatto con l'SMR e come è influito sulla loro vita. Questa, però vi chiedo appunto solo persone che hanno effettivamente avuto un riscontro molto potente con l'SMR. Non sono tantissime queste persone, per fortuna. Però se mi stai ascoltando mi piacerebbe tanto che mi scrivessi, magari giù nella descrizione spiego un po' meglio tutto. Sì, vi ringrazio in anticipo. Però ricordo che questa mail, essendo che la leggerò io di persona, vi chiedo di non usarla per scrivere altro, di non usarla solo per dirmi mi piacciono i tuoi video, cose del genere, perché sarebbe una perdita di tempo per me. Per quello ci sono benissimo i direct e Instagram. Quindi sì, vi chiedo questo favore enorme di non confondere le due cose. Questa mail è solo per testimonianze forti. Instagram invece, i messaggi di Instagram sono per tutto. Il resto, anche chi mi ha già mandato i messaggi di Instagram, magari con queste testimonianze forti, se mi li può rimandare sulla mail. Perché, insomma, alcuni faccio gli screen, però non tutti riesco assolutamente a ritrovarli. Grazie. Prima di tutto comincio semplissimo con una skin care. E vado ad applicare per prima cosa il contorno occhi. Ve l'ha già fatta vedere, questo è quello della coagli stare idroattiva. E lo si applica appunto sul contorno occhi qui, anche qui sopra, da un effetto molto fresco. Mi guardo nella, lo schermino della videocamera perché non ho uno specchio. Ho un effetto molto fresco. Perché lo scovolino è ceramico. Mi serve un po' E poi, vado un po' a spalmare con lo scovolino. E dopo con le dita. Ok. Poi, uso il siero. Ciò che sto usando, sono già un sacco. È il siero della Dior. Hydra Life. È il primo prodotto. È il primo prodotto in assoluto di marche come Dior che acquisto. E vorrei che, vorrei sono di meno perché costano tantissimo. E' molto liquido. È molto liquido. Cerco sempre di spalmarlo verso l'esterno. Ne metto pochissimo. Ma basta. E poi, vado a mettere prima il burro cacao. Senza cui io non vivo assolutamente. Mi è piaciuto molto questo della Vivi Verde. Però, quello che c'è dentro non è più questo. Ma è puro di carico. È puro. Ma ti vedete che è strano. È molto molto presente sulle labbra. E questo il burro di carico è buonissimo da mettere la notte. Perché il giorno è un po' troppo. Però mi piace perché là c'è le labbra matte. Comunque, non super luminose. Ok. Allora, adesso passiamo alla crema idratante. In casa avevo questa. Che è della Lirac Idragenist. Che usavo un po' di tempo fa. Però dopo un po' di mesi che la usavo... Ah, ho cominciato a fare un po' meno sta idratante. Perché è proprio un gel crema molto leggero. Allora, un po' di tempo fa. Allora... Allora, un po' di tempo. Allora, un po' di tempo. Allora, un po' di tempo. Ok, mi dispiace molto che voi andate a vedere la mia perle così piena di imperfezioni Ultimamente sto mangiando malissimo, malissimo e devo migliorare E seconda cosa, in molti mi dicono che ho tantissimi rossori e addirittura che ho la cupe rose In realtà no, non la parei sensibile a niente Semplicemente questa fotocamera tende a farle saltare tantissimo il rosso per di quanto lo sia in realtà E' sicuro che c'è anche questo smalto, non è così rosso, è molto più opaco C'è molto più un marroncino Anche il rosso dei rossetti ogni volta è molto 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 accentuato Ok, allora base fatta, cioè base skin care fatta Vi voglio solo mostrare cosa uso di solito tutti i giorni al posto della crema della Ria Hack Usa questa crema della Shiseido Che un idratante giorno Della vaso, per linea vaso, vaso, non lo so Che costo un rene? Ma che praticamente si fonde col colore della vostra pelle Mi dà semplicemente un effetto più luminoso E più sano Diciamo che toglie un po' il grigio della mia pelle E lo uso proprio tutti i giorni come crema Appunto mi dà un leggerissimo colore Ma non copre più a sicuro nulla E invece oggi andiamo ad abbondare Oggi ho comprato un fondotinta Mi sono lanciato un fondotinta che non conosco E speriamo sia buono Della pubba Che non costa neanche poco Perché l'ho pagato ogni sconto 19 euro e qualcosa E questo boccetto in metro Di scritto acitore fine prima dell'uso Ed è il colore 009 Questo dovrebbe essere medio coprente Guardiamo Fondotinta attivatore di luce Belle, perfetto Ho molti difetti E non ho un correttore Sono ancora alla ricerca di un correttore Ce la ricerca nel senso proprio Non trovo i negozi che lo trovano E non lo voglio prendere un lato E quindi speriamo copre Recentemente È molto liquido Spero di aver azzeccato il colore Mi sembra che sì Forse è leggerissimamente più scuro Della mia pelle Però spero di un minimo Abbranzarvi con tutto questo sole che c'è Secondo me ne uso una marea Con la spugnetta Vedete che Cola tantissimo Spero non sia anche topotallo A me sembra neutro Scusate se guardo Qui E non qui Ma appunto Ma uno specchio Non è altissima comprenza Probabilmente sarà di ricavere Almeno del mio colore Dorendo In realtà a me piacciono i fondotinta Non ad altissima comprenza Perché non ne ho bisogno Cioè non ho bisogno di Di un fondotinta Ad alza coprenza Non uso anche il fondotinta tutti i giorni Volevo solo qualcosa Che da poter mettere insomma Anche io quando giro i video Per avere una bella promessa meglio Insomma quando voglio uscire fuori a pranzo Fuori a un cena Al posto della BB cream Non qualcosa di un pochino più pesante Ma nulla di che davvero Ok Allora Mi sembra leggermente più scuro Rispetto al mio collo Si è nota anche la differenza perché Perché ho il collo bianchissimo Si è nota anche la differenza perché ho la coda Insomma La differenza non mi sembra così tonda E poi nel caso Posso mettere una cotta di un fondotinta più chiaro che ho E schierirlo leggermente Comunque Non mi sembra così scuro Spero non ossidi Con i capelli I sciolti secondo me non fa niente Può chiedere che se ne frega Però non è che non sia un colore palesemente Non torno del mio Spero anche di franzarmi un po' sul corpo Passiamo ora al correttore Il correttore non è Cioè Io uso questo Io uso questo Che a parte che è vecchio qui È della carne È della stessa linea Della BB cream E diciamo che in realtà non mi dispiace Però Non è un correttore proprio Dite Io uso che come correttore Non fa assolutamente niente Schierisce leggermente le occhiaie Però mi piace molto Quando non indosso Non indosso niente sul viso Perché è molto leggero Vedete Alcone auricolari Vedete Non copre Non copre Copre pochissimo Vorrei tantissimo comprare Il Il correttore della Tarte Ma non c'è Da Sephora dove sono andata io E non lo voglio comprare su internet Perché non la zaccherei mai il colore Quindi aspetto troppo Di andare a Milano Non lo so Ok Allora andiamo Di Cipria E' una questa Della Essence Storica Tipo In realtà io uso di solito La banana powder Però L'ho lasciata a casa E comunque Questa la uso Semplicemente per Fare un po' di picking Ma non Per tanto Non perché A volte chissà che trucco Ma perché La valenza nuova Che ho comprato Che è la Rose Gold Della Beauty Un momento fallout E quindi mi casca tutto E poi io uso tantissimo Una cipria per fare questo E quindi Dà una specie di formaggio Al mio ombretto E' utilissimo Secondo me Una perla impedita Come Che carina E Una volta Sarei proprio Leggera Anche perché Comunque Ho una pelle Proprio Grasso Ok Certo Il momento Che Aspetavo Tantissimo Cioè Gli occhi Questa Pelle Zagno Lo acquisto E' la Rose Gold Remastered Io da Beauty Io non uso tantissimo Gli ombretti Quindi Controlliamo un po' Lo stato delle cose Da vicino Quindi Volevo comprare Una palette Che fosse Quella e basta E Questa ce la farei in mente Da un po' Quindi Sono curiosa Sono curiosa Comunque in camera Sono molto più bianca Ok E Non sono comodissima Perché Mi devo vedere qui Per un sottotitore Non voglio fare qualcosa di super complicato Allora Ho comprato Questa palette Soprattutto per i matt Che secondo me Sono bellissimi Guardate che belli Mi piacciono troppo Questi marroncini Ma anche i rossicci Quindi Vado a mettere Questo colore qua Sotto la palpebra Questo qui O sandalwood No Vado a mettere Questo Si vede Questo qui Questo qui Sì Molto polvere Ossicciata Quando lo prendi in cialda Prendono Prendono Un altro prodotto Ok Partiamo C'è il quangglia Nervo Prendono Ok E' fatto anche dall'altra parte Io vorrei non poter uscire anche così Più o meno Purtroppo Devo ancora acquistare Devo ancora acquistare dei pennelli Decenti Questi sono Supergiana Che mi avevano inviato Non penso siano proprio migliori Ok Poi vado con Con questo rosso Questo qui Questo qui Ma non ho questo pennelli in realtà Non con questo Vado con questo qui che è un po' più piccolino E vado Un po' più in basso qui Spero si veda qualcosa A scorrire un po' Io cerco di sfumare il più possibile Però Questi pennelli appunto Non sono un gag Diciamo che già io non sono la regina Dello sfumare Poi Ci si mettono anche i pennelli Andiamo dall'altra parte Mi piace da matti questo colore Sapevo che mi sarebbe piaciuto Ok Il massimo che posso fare Con questa E Con questi pennelli Lo so non è un gran che sfumato Adesso provo a ritornare con il primo E a sfumare tutto insieme In generale Penso che la palette I colori mi stiano bene Vado con il rosso anche sotto Mi fa un po' Non mordisce Mi fa un po' Mi fa leggermente malaticcio Secondo me Non può fare adesso Però Ora lo risolviamo Ci metto anche un po' Del marroncino sotto Sto facendo Sto facendo completamente a casa Prima di Mettere L'ombretto nero Come eyeliner Voglio provare Al posto degli shimmer Di questa palette Che devo dire Non mi hanno soddisfatto tantissimo Voglio provare questo In realtà è un eyeliner Metal chrome Della essence Che però voglio provare Come ombretto Che bello Super soddisfatta Dell'acquisto Era indeciso Se prendere questo O Sempre per gli occhi I I rossetti Lip gloss Metallici Che in realtà Mi sembravano Di perfetti ombretti Però Non volevo spiegare Troppo il prodotto Perché erano veramente grossi Che non penso Ne avrei usati tutti Ok Cerco di Rendere I due occhi uguali Sarà un altro E secondo me Questo tocco di luce Ha aggiunto tantissimo Al look È bellissimo Ok Questo è il Melted Groom Eyeliner Della essence Top Vado a sfumare con questo Il tutto Prima di mettere L'eyeliner Questo è un po' più rosso Perché Era sporco Sì a fretto Vabbè Adoro Sembra Sembra un po' vampiresca Però vabbè Prova a mettere L'ombretto Donata Questo è L'eyeliner Fatto con L'ombretto nero Della palette Ok Non scurrere un po' qui sotto Carino Carino Ok Vado a togliere la cipria E a mettere il mascara E ci vediamo dopo Allora Come mascara Io uso Questo An ebora Instant Maxi Volume Ziccac 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 Vedete lo scovolino È molto ciccione E è molto prodotto Quindi sulle ciglia superiori Ok Sulle inferiori Me le attacca tutte C'è un sacco di prodotto Quindi Su quelle inferiori Uso questo piccolino Della Douglas Che fa un suono Che fa un suono Che fa un suono Che si è fatto sentire Che Allora x Alla prossima adesso mi metto un po' di blush io difficilmente mi metto la terra un po' di blush è il mio blush preferito in assoluto che amo alla follia infatti blush, crush della Lottie mi fa troppo niente perché colore si chiama Zag ed è un po' scuro per la mia pelle ma io adoro l'effetto spero di aver messo abbastanza cibrio se no facciamo come un'altra volta che mi sono stampato comunque questo è molto più commentato quindi comunque qui ovviamente non l'avete visto ma ho provato a rischiattarmi un po' di nuovo quindi c'è tutto rosso il genio questa volta sono riuscito a tenere un effetto un po' più naturale va bene e ho imparato che bisogna mettere è meglio mettere i blush così dall'esterno verso l'interno o almeno ma tengo un effetto molto più bello quindi ok visto che comunque gli occhi sono molto più carichi e quando mi sei abituata vado col mio amatissimo nude e non tolgo il porco lo metto molto così perché col fatto che c'è tantissimo puro di carite sotto è quasi un basso colorato invece se non ci fosse niente sarebbe matte molto più indeso ok allora io adesso metto l'ultimo tocco che è l'illuminante in realtà questo illuminante non mi fa impazzire sempre di questa palette qui la solita non è lascia un po' di alone qui ce lo si vede quindi non è una che poi non si non non illumina troppo anche questo pennello fa schifo quindi ci si mettono i trami allora in realtà io mi ravo tantissimo l'illuminante di Pesicaia mi sembravano bellissimi ma sono di sold out prestissimo io devo un ottimo rifletterci prima di prendere le cose di trucco perché devo pensare davvero quanto le userei penso sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarsi una buona 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 notte pasticcini buona notte pasticcini buona notte buona buona notte buona notte buona notte buona nochte buona notte sonido oro good night, sweet dreams, buonanotte, sogni d'oro, buon nuit, good night, buonanotte pasticcini un bacione che li spera